dark souls 3 ebbene sì dark souls 3 a meno di dieci giorni dall'e3 2015 già iniziava a girare la voce su questo nuovo sequel di dark souls ma fino a poco fa non si sapeva a parte il fatto che forse c'era forse sarebbe annunciato forse no adesso però tramite alcune immagini che a quanto pare sono state fatte fuoriuscire in maniera più o meno legale il canale youtube the know ha pubblicato queste nuove immagini ebbene ha parlato anche di queste questo nuovo titolo e di cose che effettivamente implementerà questo potrebbe essere un duro colpo un sollievo o qualsiasi altra cosa nel mezzo per i fan perché alcuni hanno visto il proseguirsi dark soul in dark souls 2 come uno sviluppo della saga tra l'altro io mi metto tra questi altri invece sono ben felici di tornare nuovamente all'ordran dranglick o come si chiamerà adesso a vestire i vanni il loro non morto per scelto e a fare le cose che riescono meglio non diventare vuoti comunque sia che sia dei amanti o no dell'idea di un sequel ecco cosa si è fatto trapelare il gioco dovrebbe arrivare nel 2016 per playstation 4 xbox one mentre dubbia la cosa su pc questo mi sembra molto strano in effetti perché essendo il titolo multipiattaforma senza nessun obbligo di esclusività perché non farlo uscire per pc contando anche che l'hardware della console next gen sono praticamente pc ad hoc quindi non ci sarebbe nessun problema in questo nuovo sequel sarà possibile giocare fino a quattro persone non è ben specificato però se questo vale soltanto per le fasi ppe pvp o se è proprio una campagna cooperativa non come per capirci gli spettri che abbiamo imparato a conoscere in dark in demon souls non che anche in bloodborne ora le classi totali saranno 10 tutti disponibili fin dall'inizio ma fin qui non c'è niente di nuovo perché effettivamente tutte le classi dei pari souls sono sempre stati disponibili fin dall'inizio addirittura si scende nei dettagli con il numero di nemici e boss che ci saranno in questo nuovo titolo rispettivamente 45 e 15 anche se c'è un vago richiamo a senza che ci potrebbero essere boss presenti già in titoli precedenti non so come questo possa accadere visto che di solito quando incontriamo un boss se non mi vengono eccezioni in mente vengono tutti uccisi ma quello più che altro è un problema di sceneggiatura e altro che potrebbe giustificare o meno la presenza di vecchie conoscenze anche perché come ben sappiamo c'è il ciclo della fiamma e quindi la storia è destinata in qualche modo ripetersi ancora 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 continuiamo con le informazioni liccate dicendo che saranno disponibili almeno così sembra 109 armi e 49 armature anche in questo caso il conteggio delle armature diciamo legacy e dell'equipagento legacy ovvero appartenente ai precedenti episodi non fa parte di questo nuovo conteggio iniziano un po' le cose che hanno fatto venire parecchi dubbi alla gente sulla veridicità di questo leak ovvero si parla di un'ora intera di cutscene tutta renderizzata dal motore di gioco ma non è quella la parte rilevante che i souls ci hanno abituato fin da daemon arrivando a bloodborne a cutscene minimali che durano poco quant'altro questa potrebbe essere una svolta potrebbe essere il segno che magari si dice che queste informazioni non sono propriamente accurate vedremo inoltre sappiamo già che le aree esplorabili saranno 12 anche se purtroppo non è dato sapere quanto saranno estese anche se effettivamente per avere solo 12 aree in un intero gioco penso siano molto estese o almeno molto intrecate e particolari vediamo le features un po' particolari di Dark Souls 3 almeno secondo queste news allora ci saranno una features chiamata definita più o meno cerimonie sacrificali praticamente si potrà immolare il cadavere di un qualche nemico in determinati posti questo oltre a generare un falò dal cadavere stesso del nemico permetterà anche di accedere alle partite altrui o essere bersagli delle partite altrui quindi si suppone almeno da come è messa che sia il metodo per fare i pvp o cooperativa ci saranno anche altre funzioni una definita it up che dovrebbe essere presa poco scaldarsi o andare a fuoco comunque che modificherà radicalmente lo scontro con i boss da come è messa penso che sia qualcosa riguardo che se lo scontro va troppo per le lunghe il boss potrebbe diventare più forte o più debole vabbè potrebbe subire delle modifiche proprio al tempo di battaglia un po' come succede in alcuni morph con le rage mi viene in mente World of Warcraft comunque un'ulteriore features che sembra quella un po' più rivoluzionale dal punto di vista di gioco è quella definita da Source Fighting Arts che praticamente sembrano delle tecniche che possono essere utilizzate con le armi e che provocano effetti specifici per il momento solo due sono note dai leak una è Rashin che di fatto è una carica che infligge un grosso armontale di danni e un piccolo contraccolpo sul giocatore e un'altra è Circle che a quanto pare sembra essere una tecnica di schivata o illusione dei colpi stessi queste sono tutte le informazioni che sono state leakate fino adesso bisogna anche dire che hanno fatto scadare un po' un po' di ferio perché di fatto molti dubbino della loro periodicità come potete vedere da alcuni screenshot che sto mostrando in questo momento anche l'interfaccia di gioco mostrata lì ricorda estremamente quella di Dark Souls 1 al punto che uno potrebbe dire benissimo che Dark Souls 1 con pesanti mod altre cose purtroppo non è dato saperlo perché effettivamente le informazioni sono veramente minimali quindi fra dieci giorni ci sarà le 3 fra dieci giorni probabilmente From Software ci dirà in positivo o in negativo se Dark Souls 3 sarà una realtà e fra dieci giorni avremo la risposta però a questo punto io vorrei sapere voi cosa ne pensate di questo di questa sequel siete contenti? vi dispiace? avreste preferito che non allungassero il brodo? o siete come ho detto prima pronti a lanciarvi in un'avventura con il vostro non morto? soprattutto per quelli che non avendo una Playstation 4 non hanno potuto giocare a Bloodborne scrivetemelo nei commenti oltre eventualmente a qualche idea su quello che effettivamente porterà questo Dark Souls 3 o al massimo se i leakhead sono effettivamente per voi sensati o no alla prossima bye bye grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti